Gli alpini di Lecco hanno un nuovo presidente, Emilio Invernizzi, 49enne di Esino Lario. Eletto dall'Assemblea annuale dei delegati, Invernizzi succede a Marco Magni, che ha guidato la sezione negli ultimi dieci anni. È iscritto alle penne nere lecchesi dal 1995 e ha già ricoperto diversi ruoli nel gruppo, da consigliere a vice capogruppo fino a vicepresidente della sezione, coordinando i collegamenti con le forze armate e la sezione nazionale. Il mio presidente ha inoltre svolto il servizio militare presso la 106esima Compagnia Armi di Sostegno del Battaglione Saluzzo, secondo il reggimento alpini, brigata taurinense. Ha partecipato all'operazione Vespri Siciliani, a quella di soccorso alle popolazioni alluvionate nel nord Italia nel 1994. Durante l'Assemblea è stato definito anche il nuovo consiglio direttivo, che sarà composto da Erino Delpini, Pierangelo Corti, Fabio Sibilloni, Giuseppe Tintori e Giorgio Rusconi. Il presidente uscente Marco Magna ha inoltre ricordato i momenti principali del suo decennale mandato, non dimenticando il lavoro svolto per i festeggiamenti dei 150 anni del Corpo degli Alpini e i 100 anni della sezione di Lecco, culminati nel grande raduno del secondo raggruppo Mentolo scorso ottobre e nell'iniziativa 150 Cime, con gli Alpini in armi del Battaglione L'Aquila sulle vette della Grigna Settentrionale, del Resegone e del Monte Sodadura. Carissimi Alpini, scrive Magna nella sua lettera di saluto, ho passato con voi dieci anni di vita, porterò con me un bagaglio di valori che mi avete trasmesso con la vostra semplicità, concretezza e forza d'animo, ma soprattutto con lo spirito che contraddistingue la nostra amata associazione e la nostra bellissima e stimatissima sezione di Lecco. Nelle prossime settimane invernizia il nuovo Consiglio Direttivo definiranno i vari responsabili e le diverse commissioni della sezione di Lecco.